La vasca di prima pioggia, ovvero quella che raccoglie l'acqua piovana prima che finisca in mare che Aset costruirà alla foce del torrente Arzilla, rappresenta la punta di diamante in ambito di controllo e monitoraggio dell'inquinamento delle acque balneabili sul versante delle tecnologie più all'avanguardia in materia, un progetto pilota per tutto l'Adriatico. La futura opera fa parte di Watercare, un progetto europeo che interessa il bacino dell'Adriatico e che ha nel CNR di Ancona il suo ente capofila. Watercare tradotto in italiano è la salute delle acque. Noi vogliamo migliorare con questo progetto la salute delle acque di balneazione, cioè rendere più balneabile la fascia costiera, in questo caso del torrente Arzilla, quindi a nord del porto di Fano. In che modo? Con delle infrastrutture che realizzerà l'Aset e con degli interventi molto innovativi, con delle strumentazioni che misureranno in tempo reale la qualità delle acque che transitano attraverso il torrente Arzilla e arrivano in mare e dare, se necessario, le allerte giuste per eventualmente gestire al meglio l'acqua di balneazione. Lavoriamo con il Comune di Fano, con la Regione Marche e con la Regione Abruzzo. Tutti insieme cercheremo di raggiungere un comportamento univico sulle misure che andremo adottare e sui risultati che vorremmo raggiungere. Watercare assegna un contributo di 493 mila euro al progetto sulla vasca sul totale dei costi dell'intera opera che ammonta a circa 2 milioni di euro. La struttura potrà contenere 1600 metri cubi di acque miste prima di reimmetterle nel sistema foniario e portarle al depuratore, evitando quindi che finiscano in mare con il loro carico inquinante ed un'elevata carica batterica. L'ambiente è un valore e quindi va da una parte tutelato e dall'altra va valorizzato. In questo la Regione è impegnata proprio in prima linea per tutelare e valorizzare la qualità dell'ambiente della nostra Regione e del nostro territorio. La vasca di prima pioggia che viene realizzata a Fano è finanziata da questo progetto che è stato finanziato dall'Unione Europea. Questo sistema, una volta a regime, si prevede prima dell'estate del 2020, permetterà innanzitutto un monitoraggio in tempo reale delle acque balneabili, di intervenire tempestivamente con i divieti di balneazione e soprattutto di ridurre i tempi degli stessi in caso di inquinamento, se non di eliminarli del tutto. Siamo partecipi in maniera importante perché comunque la parte concreta e il vero e proprio progetto che è il cuore di questo finanziamento è fatto da ASET, quindi anche questo è un passo successivo, è un passo importante, è un passo che ci vedrà coinvolti per due anni. Contiamo di proseguire nel giro di un anno e quindi dare alla collettività e quindi evitare problemi di balneazione a tutto l'indotto, parliamo della foce dell'Arzilla, parliamo chiaramente anche dell'Ido.